...di segretario dell'associazione provinciale della stampa di Messina, ho l'ingrato compito di dare via a questa simpatica manifestazione, a questo incontro tra amici che abbiamo voluto organizzare in onore di Carmelo Garofalo. Dire Carmelo Garofalo a Messina significa dire qualche cosa che ha un significato molto molto importante per noi giornalisti, ma direi che al di fuori del nostro mondo, il mondo dell'informazione, il mondo della città, quella che ha vissuto dalla fine della guerra fino ad oggi, ha un particolare significato, perché Carmelo Garofalo ha traversato in questi suoi 70 anni di attività professionale tutto quello che dal 1946, io dico, dalla fine della guerra fino ad oggi, ha significato Messina. Lui ha continuato la tradizione che aveva iniziato quando a portare i calzoncini cotti, è vero, il professor Garofalo, perché allora cominciò la sua attività di giornalista e ha impresso una svolta, certamente, alla attività giornalistica Messina. Lui, mi piace ricordare anche che fu uno dei autori dell'associazionismo sindacale della stampa a Messina. L'associazione della stampa è nata nel 1891, ma l'associazione della stampa a sezione Messina è nata nel 1946, nel dicembre del 1946, poco dopo la Repubblica, e quindi tra poco facciamo, noi facciamo 65 anni, un po' meno, di quelli che fa il professor Carmelo Garofalo. E quindi stiamo cercando di organizzare anche un'altra qualcosa per ricordare questo evento, perché ormai gli eventi si succedono, le ricorrenze. E quindi io ho solo il compito di ringraziare. Ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare e far sentire con la loro partecipazione e la vicinanza di tutti a Carmelo Garofalo. Un grazie di cuore a tutti i carineci giornalisti, a tutti coloro i quali hanno conosciuto Carmelo e quindi hanno voluto, hanno preteso di essere presenti a questa manifestazione. Alle autorità che hanno, anche loro con spontaneità, accettato l'invito che la selezione della stampa ha fatto. E mi piace ringraziare anche i due padroni di casa, il commendatore Gianni Morgante, il presidente della SES, e il senatore Dino Calarco, il presidente della fondazione Polino Garofalo, che hanno voluto concedere con l'auditorium della fondazione, con il Garofalo 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 Garofalo, un momento veramente importante e significativo a questa manifestazione, che io ricordo che non è che viene concesso molto facilmente l'auditorium della casetta. Per cui averlo dato per la festa dei 70 anni di attività professionale di Carmelo Garofalo è una cosa veramente che fa onore sia a Carmelo Garofalo, sia a tutti i giornalisti, sia alla fondazione Polino Polo del Garofalo. Ricordate, 70 anni di attività professionale. e risulta rispetto all'arco, se non ricordo male, il 18 ottobre del 1941. Beh, mi pare che soltanto una cinquantina di giorni dopo il Giappone attaccò per alcuno, quello che fa, è vero? Benissimo, allora a questo punto io ho finito il mio compito e io cederei la parola al senatore Garofalo. Subito. Allora facciamo parlare il presidente regionale dell'ordine giornalista, Vittorio Corradino. Grazie, non pensavo, non ti ringrazio, ma hai ringraziato subito la parola, in realtà non partirò, sarò molto breve perché Carmelo Garofalo lo lasciamo tutti, lo lo scelte, anche meglio anche voi, forse, che siete di Messina e non vi faremo, ma Garofalo è un nome regionale, è un collega che tutti noi in Sicilia conosciamo e abbiamo imparato ad apprezzare in tutti questi lunghissimi anni di attività. il messaggio, quindi non vi dirò cosa possa essere inerente al collega Carmelo Garofalo, dirò piuttosto il messaggio che secondo me ha accorto nei 70 anni di attività del collega Garofalo, che è un messaggio che oggi, da Presidente regionale, mi sento di poter rilanciare a tanti giovani colleghi che si apprestano a fare questo lavoro, a fare questo lavoro, a quello che diciamo un mestiere, professioni, che ha considerato una professione, ma vedetemi, è più un mestiere, è il mestiere, come un tempo si diceva, delle scuole, delle scuole, delle scuole, perché tu devi camminare, devi cercare una crisi, è un mestiere che è cambiato molto ed è un mestiere che cerca, ricerca un'altra etica, ricerca altri profitti ideontologici, ricerca uno stanzio che molto spesso qualcuno ci vuole anche negare, per riferimento, capito bene, e anche a questa, che è stata chiamata la legge Bavaio, e che adesso sembra che si sia arenata in un Parlamento con auspicio naturalmente di tutta la categoria dei giornalisti. Sto molto attento a fare, non dire, considerazioni in generale, perché ho qua nella sinistra il Presidente nazionale, perché, come se si può dire, il seminario non c'è stata, però mi sento di poter dire sicuramente che oggi guardare a chi è nato da questo mestiere, a chi ha fatto questo mestiere per tanti anni, a chi ha trascorso, bene ha fatto il colore pulmetta, a ricordare l'anno di iscrizione del collega D'Arolfo, e io molto spesso quando parlo, faccio prevenzioni, ai colleghi di Chiesa che poi stanno a fare l'esame ambientale polizionista, oppure i pubblicisti. Ricordo che la nostra legge è stata a 63, 63 comunque è una data molto lontana, è una data in cui non esisteva proprio, non si chiama Inter, quindi stavamo con la rettita di riuscire, e si chiama carta Sant'Arto, sostanzialmente. Eppure, stiamo parlando, nel caso del Valorevo, di 41, cioè piena guerra mondiale, piena seconda guerra mondiale. Quindi, con questo cosa voglio dire? voglio dire che questo è un mestiere che, chi ci crede, supera il tempo. Non vada assolutamente, supera il tempo. Io voglio dire che Carmelo La Rosa, tutti questi anni, non ha perso interesse, non ha perso l'entusiasmo che io, conoscendo da un po' di tempo, posso dire che ho visto anche negli anni principi, negli anni cambiatori tecnologici, tutti non c'hanno la mano, come si arriveranno i non più giovani, i non più giovani alle nuove tecnologie. Bene, io probabilmente auspito che oggi tanti ragazzi che fanno questo mestiere riescono a avere ventusiasmo che ha avuto per noi ragazzi per tutti questi anni. Grazie. Qui c'è l'assessore Caroliti, se vuoi portare il saluto dell'Amministrazione Comunale. Sì, molto veloce il saluto dell'Amministrazione Comunale. Il sindaco non voleva essere presente, non ci teneva che fosse festeggiato adeguatamente il giornalista, il professor Carmelo Garofalo, che ha con i suoi articoli e i suoi pezzi rappresentato un po' la storia della nostra città, la storia di questi 70 anni, e quindi nelle sue memorie vi è anche la memoria collettiva della città di Messina che deve appoggiare in qualche modo di tributarvi oggi questo manto. Grazie. La regione siciliana non è stata in grado di essere presente, ma ha delegato l'assessore di Provincia a portare il saluto. Buongiorno, non sono l'assessore della provincia, sono la dirigente dell'assessore di Michi, per questo da lei delegata. Comunque lo faccio con grande affetto perché anch'io sono molto legata al professor Garofalo e negli anni ho potuto apprezzare di questo e che tutto ciò che ha fatto per questa città, ma soprattutto la sua passione. Quindi grazie, professor Garofalo. Adesso leggo una lettera inviata dall'assessore Michi, indirizzata sia al dottore Pudente che al professor Garofalo. Pregiatissimi, sono molto lavorata per l'invio a partecipare alla cerimonia per i 70 anni di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti professionisti del professor Carnero Garofalo, ma a causa di sovravenuti quando imprevisti impegni istituzionali che mi tratteranno a Palermo, non potrò essere presente alla consenna della dacca d'onore, a cui sinceramente l'assessore tiene tantissimo provo per la stima che ha nei confronti del professor Garofalo. Esprimo vivo apprezzamento per la realizzazione dell'iniziativa che dà atto dell'impegno e della professionalità del professor Garofalo esempio per le giovani generazioni di un giornalismo serio improntato ai loro ruoli dell'etica, della correttezza e della trasparenza. Voglio altresì ringraziare in questa occasione il professor Garofalo in particolare che ha sempre avuto parole di apprezzamento e di incoraggiamento per la mia attività sia come magistrato che in atto come assessore regionale, provandomi così nell'impegno di offrire strumenti efficaci e risposte concrete ai problemi della nostra terra. Cerca del successo di questa iniziativa, formulo le più vive congratulazioni al professor Garofalo per la sua brillante carriera. Grazie. Non prendo le distanze dal presidente dell'ordine regionale che è il comandante territoriale per cui mi tocca parlare. Io sono un po' a disagio, vi dico perché. Scusate. Perché è evidente che siete gli amici di Carmelo Garofalo, che lo avete conosciuto, frequentato, apprezzato, perché altrimenti non sareste qui. Io, pur avendo frequentato questa città, perché mi sono laureato a Messina, vengo da Reggio Calabria, pur avendo frequentato questa città non ho avuto l'opportunità di incontrarlo in nessuna delle sue molteplici attività, neanche all'università perché io facevo giurisprudenza, ero vittima di Salvatore Cugliatti, quindi non ci siamo incrociati. è un nome che ricordo con affetto, insomma, con grande affetto e guardando ai episodi recenti della vita dell'università con grande nostalgia, con grande nostalgia della trasparenza dei comportamenti anche del musicologo Salvatore Cugliatti, cosa che non molte sanno. Io dico, mi trovo un po' il pisaggio perché forse non ho delle cose da dirvi sulla sua vita, che del resto conoscete, quindi francamente sarebbe superfluo, però posso dirvi quello che leggendo alcune sue cose che cortesemente Filippino e anche altri amici hanno avuto la cortesia di mandarmi, posso dirvi quello che il suo percorso professionale con alcuni articoli che ho avuto modo di leggere mi hanno trasmesso. La prima cosa è questa, è una di quelle persone che mancano oggi nella nostra professione, cioè oggi la carenza maggiore che c'è all'interno delle nostre redazioni per come sono ridotte il direttore che ormai nelle redazioni numericamente, è la figura di chi insegna ai giovani. Sono quelli che noi chiamavamo i maestri, di solito avevano, non conoscendolo, non posso dire se rientra nel cliché tradizionale, avevano un cappellaccio e fumavano permanentemente un sicuro, avevano permanentemente in bocca un sicuro e ti trattavano malissimo facendo il tuo bene e facendoti crescere professionalmente. Queste persone non ci sono più, le redazioni come sapete sono diventate a causa di molti fattori, non solo per la crisi economica o per la crisi del settore, sono diventate quasi delle lande deserte, fatte salve le eccezioni, ma mancano queste persone che avevano voglia di regalare agli altri, ai più giovani, il loro sapere. Io ho dei ricordi dolcissimi, vi citerò un nome che probabilmente al senatore Calarco dirà qualcosa ma quello di Cesare Rivelli che mi fece fare tre o quattro volte lo stesso pezzo di 40 righe che allora era niente, perché era come una breve di 10 righe di oggi, e quando alla fine lo scrissi così come lui desiderava fosse, mi disse ora è perfetto, senza intanto, frattanto, dal canto suo, peccato che sia tardi e lo buttò nel cestino. Queste cose non succedono più, io l'ho odiato in quel momento, ma l'ho amato come se fosse il mio papà dopo, perché mi aveva, penso di aver scritto svariate migliaia di articoli, non troverete né un intanto, né un frattanto, né un calcato suo, per fare un esempio. Queste sono le persone che mancano nelle nostre relazioni, che erano nei nostri giornali, nelle nostre emittenti, che erano il patrimonio vero attraverso il quale si tramandava il sapere. E questa è una prima cosa che mi viene ben chiara da quanto ho letto. Ne ne vengono altre due. Una l'ha evocata il comandante territoriale Corradino, io la penso come cammino verofolo sulle intercettazioni. Forse non siamo completamente in linea con il Presidente dell'Ordine regionale, non che voglia la legge Pavaglio, sia chiaro contro la quale proveremo a fare tutto quanto è possibile, ma sono contro l'idea che i giornalisti si siano delle buche delle lettere, e contro i giornali che pubblicano intere pagine di scopinati di intercettazioni attraverso le quali si fa stragi dei diritti delle persone, non solo e non tanto, e ne hanno anche loro, dei responsabili dei reati, perché noi evochiamo molto spesso la Costituzione della Repubblica che prevede la presunzione di innocenza, ma la evochiamo solo quando ci fa comodo, la rispettiamo. Ecco, non solo e non tanto, ma soprattutto e con particolare crudeltà nei confronti di persone terze che vengono coinvolte da un'attività investigativa che è essenziale, così evitiamo epiloci. Io ho letto un articolo non lungo, del 1 di settembre di quest'anno, nel quale ho ritrovato eco di queste perplessità che condivido. un'altra cosa, dobbiamo parlare in tanti ma poi la festa è sua e tocca a lui regalarci stasera qualcosa. Un'altra cosa mi ha colpito, è un articolo di una collega della Gazzetta, adesso mi scappa il nome, ho provato a recuperarlo ma non ci sono riuscito e chiedo scusa alla Gazzetta, che ha come titolo un richiamo al dovere della verità. Ecco, noi dovremmo sistematicamente tenerlo presente questo dovere della verità e che persone come Carmelo Caroforo hanno onorato magari anche rimettendoci professionalmente in qualche occasione, perché dire la verità significa che non accettare di piegarsi al desiderio del potente quale che sia, non pensare tutti alla politica perché non è vero che tutta la politica sia lo stesso modo, del potente di turno. quindi queste cose lasciano il segno e sarà anche per questo che voi siete qui, io penso di sì. Vorrei concludere con questo, a me piacerebbe, vi giuro che non fa parte di un contratto, certo sono il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quindi mi tocca dirle, ma le dico perché le sento. A me piacerebbe che voi aveste attenzione per il nostro mestiere, per quello che viene fatto, non solo mossi dall'affetto personale che è una cosa che fa olore a chi lo vive, ma dalla consapevolezza del ruolo che noi svolgiamo o che dovremmo svolgere, che è un ruolo di collegamento tra la società e voi che siete la società. Noi dovremmo essere il canale attraverso il quale vi è possibile acquisire le informazioni che vi consentono di maturare un'idea, di arrivare ad una conclusione. Guardate, è molto complicato, è molto complicato, non per la legge Bavaggio, se ci sarà, se verrà, poi c'è quel signore un po' alto che sta a Quirinale, che non sembra tanto propenso. Quindi non so se ci sarà, ma è complicato, soprattutto per i più giovani oggi, provare a fare questo mestiere in maniera... Guardate, sto parlando dei vostri figli, dei vostri nipoti, in maniera dignitosa, perché quando si viene pagati due euro ad articolo, perché, vedete, abbiamo fatto, regalatemi due minuti, abbiamo fatto una manifestazione a Firenze e abbiamo mandato una troupe per la città a domandare ai cittadini, ma quanto guadagnano i giornalisti? Chi si diceva di meno parlava di 3-5 mila euro. Ecco, quanti di voi sanno che i giornali oggi pagano 2 euro, 3 euro l'ordine a pezzo agli articoli dei più giovani? Ora, questa città, questa provincia ha pagato anche in termini di sangue con la morte di alcuni giornalisti, lo stimolo, la spinta, il desiderio di fornire ai cittadini elementi di conoscenza. Ecco, provate, per quello che vi è possibile, anche ad essere vicini a questi giovani, se è possibile, prima che rimangano vittime dell'ennesimo potente di turno o dell'ennesimo criminale che un bel giorno decide che quell'articolo lì debba essere punito nella maniera estrema. Io penso che accettare di comportarsi così sia, anche, e ho finito, un modo per onorare tutta la vita di Carmelo Carofalo, perché da quello che so ha aperto sempre le sue porte, le porte del suo giornale che ancora edita, perfino nell'online, dicimentandosi, nell'online che è un'innovazione, insomma, uno potrebbe dire un'innovazione alla sua età, sì, perché la curiosità, la voglia che non muore mai, mai di misurarsi, di confrontarsi con il nuovo, ha aperto sempre le porte ai più giovani. Ecco, se voi avrete queste attenzioni che mi sono permesso di sottoporre alla vostra valutazione, credo che tutti insieme faremo anche un altro regalo a Carmelo Carofalo. Grazie. 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 di Pallacanesto e questo professore che era pubblicista così chiese alla terza C dell'Ariba il seduto se qualcuno di noi volesse andare a fare questo resoconto di 10 libri fu il più sguetto alzare la mano e quindi il professore Marcello Danzelli mi ricordo sempre con sempatia mi chiede questo incarico di fare queste 10 libri per me che era una conquista della mia vita iniziale per 30 d'oro 49 17 anni e andare a fare questo servizio bisognava andare all'ufficio centrale dei telefoni farsi la prenotazione aspettare che ci fosse il collegamento e via di genere c'era da più per perdere ore ma era già un mestiere che mi affascinava ho affascinato anche Gianni Morgante che era figlio di un capo della direzione era il capo della tipografia della vecchia casetta di Messina e della Calabria che era stata rasa al solo durante uno dei bombardamenti del 1943 e noi siamo stati sentiti insieme a scuola al ginnasio al liceo all'inizio della università e all'inizio di questa attività che ha avuto un maestro il Carmelo Carofalo perché il giorno in cui io ho dovuto trasmettere il pezzullo per il mattino di Napoli il incontrare il professore Carofalo che mi chiese se avevo voglia di fare il guitarista era come dire non so oggi dire se uno vuole fare l'artista magari la comparsa in televisione come? se vuole andare a grado a grado a grado a grado no a grado a grado a grado e che io disse di sì e poi ci fu l'incontro con il professore Carofalo segretario dell'associazione della stampa in piazza Antonelli al palazzo delle popolze al palazzo delle popolze al palazzo delle popolze e la stiamo e la stiamo e la stiamo e fu l'incontro perché il professore Carofalo era uno che aveva il naso per andare a scoprire qualcuno di giovane che aveva veramente la voglia la volontà la preparazione la conoscenza dell'italiano per poter fare il giornalista e subito mi accorse con molta simpatia e veniva con molte di quello che lui doveva fare perché aveva in quel momento il corrispondente di tutti i generali italiani il professore Carofalo il corrispondente di tutti i generali italiani salto molti particolari poi a Messina c'era la tribuna del mezzogiorno il giornale classico di Messina era la gazzetta era un giornale che era nato la gazzetta nel 1862 cioè due anni dopo l'impresa Caripartina ed esce il giornale di Messina e della Calabria ci sono delle inserzioni pubblicitarie del tempo che attestano questa nostra presenza immediata in Calabria non so Carofalo naturalmente non trovo dei meglio che dare a me e a tanti altri giorni che frequentavano la sala scampa compiti di fare i giornalisti i cronisti e tutto ma anche i media ci siamo si era inventato se non ricordo romani le vicende politiche portarono poi un operatore economico che era l'onoreo Roberto Bonino già deputato alla Costituente e deputato alla prima legislatura repubblicana con il torto Bonino di avere resumerato di avere aumentato i suoi voti nella elezione del 48 a fronte di una retrocessione di voti da parte del cavo del cavo comunista del partito liberale una persona attenta che c'è una onora di resina come l'onoreo che è da partire e insorge questo dualismo tra questo giornale che stranamente si chiamava in modo che non usava la parola gazzetta e il ripristino della parola gazzetta da parte nostra che era un titolo di giornale che ripeto del 1862 io ho trovato una inserzione pubblicitaria proprio dove si diceva il giornale della Sicilia di Messina e della Calabria perché questa unità di intenti di colme e di attività di l'intentrata reggio Calabria ce l'è stata sempre adesso si ci ha superato praticamente e siamo noi che abbiamo la calabria mentre prima loro venivano per tutti qualsiasi acquisti delle famose donne che avevano le vestali abbastanza ampio perché loro venivano sconto penso no non facevano non portavano della 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 produzione della campagna e che avevano le donne larghe perché dovevano tornare indietro con il sale e perché dovevano tornare con il sale per il fatto che essendo la Sicilia produttrice di sale non si pagava non si pagava la tassa sul sale il sale per giù Calabria è postato di più per cui queste donne le bagnano le bagnano le bagnano andavano tornavano venivano diciamo i frutti della terra e tornavano con il sale dico questo per sottolineare come si dal primo momento la nostra nazione che cominciò con il ripristino della testata Gazzetta del Sud dovuta a Roberto Bonino il nostro editore vide che fortunatamente come capogromista il professore Carrofo che era tornato a tornare a se le persone che erano saranno anche nella sala di stanza e allora aveva insegnato il mestiere ci siamo cantati un po' di di anno ma abbiamo fatto un po' di di anno qualche battaglia dico tutto questo e potrei qui una lunga storia per dire che la nostra presenza di Gianni Morganti e di tanti giornalisti è un segno del riconoscimento perché Carmelo Carrofo era il numero uno e il numero del giornalismo messi messi potrei dilungarmi ancora per raccontare tanti tanti episodi ma io dico a Carmelo Carrofo la qui scrittura denota ancora una sanità mentale che quando tu vedi uno scritto di Carmelo Carrofo pensi di avere di leggere lo scritto di un giovane perché lui è rimasto giovane è rimasto giovane grazie signora grazie signora grazie signora e noi gli auguriamo con lui che il pericolo che lui ci sia e noi non ci siamo e quindi a un elementato momento questo non mi toglie l'amore l'affetto e dire professore Carmelo Carrofo alto ma di noi sarebbe il caso che parlasse lui il festeggiato questa è la novità la notizia la tenuta nascosta se non all'ultimo da buon cronista se ne è chieduta per sé c'è un messaggio del capo dello Stato mi pare che non avvenga tutti i giorni tra le numerose adesioni pervenute a Carmelo Carrofano gradita aveva del Presidente della Repubblica Giorgio Lampilitano che ha espresso i più ferriti auguri per il significativo traguardo raggiunto nell'esercizio della professione giornalistica e nel costante impegno per un'informazione responsabile e consapevole dovrei continuare perché c'è nota un messaggio importante così e tra le tante altre una testimonianza di chi è conosciuto Carmelo Carrofano si è ragazzo e ne ha seguito il difficile cammino terreno è Gaetano Terragna Messinese funzionario del Banco di Sicilia in pensione che da Bologna dove vive ormai da molti anni così scrive per l'occasione Carmelo mio caro non sarò presente alla cerimonia ma a rendermi presente sarai tu stesso sì puoi farlo perché hai il dono della parola al pari della lettera che hai coniugato sensazionalmente per un'intera vita quasi coetanei ci siamo affratellati per la convergenza delle idee lo spirito del bene la volontà di praticare la giustizia di cercare con affanno la conoscenza della verità esercitare il bello e gradito agli occhi di Dio ti sei plasmato da solo in virtù del carisma effuso dallo spirito della verità che hai appena verbalizzato hai affrontato la vita a volte traversale e amara con l'impeto eroico di un milve che non conosce ostacoli e deve giungere a ogni costo alla meta i tuoi 70 anni di giornalismo non conoscono il riposo della penna di fronte agli ostacoli di molteplice natura politica sociale sportiva educativa carità nevole sempre in difesa dei deboli e degli marginati hai fatto rinascere in dignità e prestigio lo sport calcistico di Messina soppito e abbandonato dagli eventi dolorosi post bellici hai dato ospitalità nello sconforto degli anni focosi dei bombardamenti a molti amici e parenti che cercavano rifugio nella tua casa vicino alla galleria antiaerea dove nella ressa perirono amici hanno i carissimi durante la guerra di Spagna mi fosti vicino con pistole pieni di patriottismo che conservo genosamente lo stesso con parole di argimento per le gravi ferite riportate oltre il segre affluente dell'edro questo lo dico per segnalare l'ampiezza della tua generosità che non deve essere posta sotto silenzio in quest'ora solenne che ti vede festeggiato e anche per la vivacità del tuo spirito sensibile voglio chiudere segnalando un episodio che mi colpì a Genova circa 60 anni fa al congresso dell'ordine dei giornalisti nel vasto salone al titolo di macchine per scrivere non esistasti a battere i tasti avidi di tradurre il tuo pensiero come un'aquila impicchiata mentre tutti cogitavano tu scornavi un articolo di fondo in pochi minuti lo lessi e ne rimasi perplesso da quel momento affascinato dalla tua intelligenza e vitalità ti ho tenuto nel cuore come tu lo fai per concetta per molti anni docente universitario maestro di giornalismo decano nel nobrio della quintessenza del pensiero umanistico e filosofico sempre vicino alla chiesa ti sei dissetato come la cerva ai corsi d'acqua vorrei continuare per manifestare agli astanti la ricchezza dei doni che possiedi lascia ad altri la parola per esaltare i tuoi meriti onore e gloria oggi e sempre nella luce che ti circonda per tanta valenza e stima oggi ti sto accanto per gustare la tua gioia e farti sondare la mia gratitudine per quanto hai donato vado a Dio le mani con un forte abbraccio Dio nostro rifugio e forza ti benedica applausi 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 apprendiamo con gioia l'assegnazione del riconoscimento alla carriera conferito dall'Associazione Siciliana della Stampa per la tua ininterrotta attività di giornalista e per i 70 anni di iscrizione all'ordine dei giornalisti professionisti da molti anni con la tua professionalità e la tua contagiosa esperanza sei anche vicepresidente consigliere nazionale della nostra unione in questa importante circostanza gli amici dell'USPI si congratulano con te per questo riconoscimento alla carriera di giornalista insieme alla quale vogliamo ricordare anche la tua carriera di direttore ed editore augurandoti ancora mille altre future soddisfazioni ti salutiamo con affetto il segretario generale e tutti gli ordini sociali dell'USPI avvocato Francesco Saverio Vettere applausi mi sono orgoglioso di avere tra i soci e i sostenitori dell'UXI il professore Carmelo Garofalo che è il decano della nostra unione e testimone dei valori per i quali agiamo conservo un ricordo vivido del mio incontro a Messina con il professore Garofalo in occasione del convegno nel gennaio dello scorso anno in cui ebbi l'opportunità di parlare su libertà e etica nella professione giornalistica vi prego di rinnovarvi il mio augurio e le mie felicitazioni più affettuose e ringraziamento per il ruolo che continuo a svolgere nella difesa della qualità professionale Andrea e a menudia presidente Unione Cattolica stampa italiana il professore Garofalo è stato il fondatore della sezione regionale della dell'UXI in Sicilia che oggi è rappresentata da numerosi colleghi tra i quali il presidente regionale Pippo Vecchio il vice presidente regionale Italia Ciccio e il professore Salvatore Catanese che è il presidente dell'emisore dei Conti grazie 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 scusate se rimango seduto è l'ora che io mi confesse a voi per farmi assolvere il soluto dal peccato e avermi rubato qualche ora di questo momentico nella notte della stanchezza quando l'esistenza coglie al termine è creoso ristorarsi godendo della vista di tante personalità amiche e di tanti amici 70 anni di quotidiano impegno del pianovista professionalista oltre 80 anni di giornalismo militante sono non un merito personale ma la grazia di Dio per chi come me nell'esercizio della professione si è ispirato a San Giovanni il Bosco che con la parola gli scritti e la stampa si è profuso per difendere e diffondere la fede attravergente San Giovanni il Bosco che mi ha insegnato a usare correttamente e validamente i ferri del vestiere i vari strumenti della comunicazione sociale per farne mezzi di comunicazione e di formazione della pubblica opinione sempre al servizio della verità nel rispetto della dignità altrui in linea quindi si è ragazzo con il principio fondante del dote dei giornalisti al quale mi onore di appartenere sin dal 1940 con l'inizio del praticantato al termine del quale mi venne donata dal direttore della gazzetta strebessica Ivano e Fossani la penna d'oro al momento dell'iscrizione il 12 ottobre 1941 esattamente 70 anni or solo oggi nell'albo dei giornalisti professionisti dopo dopo otto anni di manavolanza che mi condussero guisato dai signi maestri indimenticabili tra i quali soprattutto Ivano Fossani il direttore Giuseppe Longo Gaspare Cresti Pietro Magno e per la preparazione tecnico professionale dall'indimenticabile ondiprecente e proto della gazzetta di prima della guerra Pasqualina Morgante con il quale ho condiviso per oltre un decennio dieci ore di duro appassionato lavoro quotidiano in redazione e in tipografia fino all'alba dolorosa del 25 maggio 1943 quando uno stormo di aerei angloamericani nel corso di uno dei più devastanti bombardamenti distrussero il complesso editoriale della gazzetta storico quotidiano di Messina che fu anche cenacomo di culture delle libertà dove convenivano sera dopo sera tutti insieme o a presenza alternata per sfrannare il figlio da Quasimodo a Vittorini a Bannantò a Luca Mignano il primo proprietario agli studi di Messina Puglianchi le successive esperienze sono tutte vive nel mio cuore dai quotidiani del dopoguerra da me promossi il giornale dell'isola di Augusto Martino e l'Ego del Martino diretto da Pietro Rombo edito da Pia Giorgio Salvaggi e da Nino Maratino quando si andava avanti con una sola vino e la macchina piana e come bastire Pietro Liggi in Grazia direttore del Dora di Palermo era da eroe dare alla stampa un quotidiano fino alla cazzezza del Sud questa cazzezza del Sud che è la pietra miliare di Umberto Bonino al quale va il mio grande ricordo per avere creduto in me per avere realizzato a Messina un quotidiano che con la sua prestigiosa presenza è da 60 anni al servizio della Sicilia e della Cambria al cui vertice mi sono in Cadenino Calarco che mosse i miei passi del giornalismo collocorando con me alla cazzetta dello Sport e al Corriere Sport e Gianni Volcante figlio dell'indimentinabile Pasqualino i ricordi sono tanti in questo momento i 60 anni di collaborazione al resto del Carlino di Bologna che mi ha conferito il Carlino d'oro ai tanti giornali quotidiani e periodici che mi hanno onorato utilizzando i servizi da me predatti la mia attività al servizio dei colleghi nell'associazione della stampa e all'unione stampa periodica italiana della quale sono tuttora vicepresidente nazionale tra i più votati d'Italia alla più difficile e rischiosa quotidianità vissuta con Tele News l'emittente televisivo da me diretta per oltre dieci anni che ebbe i suoi martiri ben ben affano e del creativo editore Antonio Massa entrambi uccisi dalla mafia nel gennaio e nel luglio 1993 l'emittente che venne lasciata in abbandono alle istituzioni e che con pochi giovani tra i quali ricordo Rosetta Coppolino Maria Stella Gialace Lorenza Pazzeo Milma Cucinotta e Francesca Spinella riuscimmo a sopravvivere per due anni senza una lira spesso intimiditi e minacciati fino a che con un'oscura manovra di compromesso Tele News si polverizzò dissolvendo misteriosamente le videocassette con la registrazione dei mirati editoriali che ogni sera denunciavano alla pubblica opinione le occulte trame mafiose che abblenavano il territorio e sarebbe stato possibile da quelle videocassette trarre spunti necessari a fare luce sui tre delitti eccellenti di Barcellona di Cotto del 91-93 quelli che riguardano in 18 mesi il consigliere comunale repubblicano Salomone Beppe Alfano e Antonio Massa incomprensibilmente disattesi perfino dalla pura allinevole combattività dell'onorevole Sonia Alfano ricordi tanti ripianti ricordi tanti ripianti nessuno tanto meno biancone una parola cassata dal mio vocabolario cronista di nera a 16 anni e nello stesso tempo già inviato speciale per gli eventi sportivi per non avere passato una notizia ben di licenziato per essere riassunto 24 ore dopo con stipendio raddoppiato erano 10 lire quindi 20 lire al mese avendo spiegato che non mi sembrava opportuno pubblicare la notizia dell'arresto di un bianco italiano che di giuno da tre giorni si era impossessato furtivamente di un filoncino di pane perché in avvenire sarebbe stato detato per l'arro e quindi evanginato dalla società una lezione di etica professionale che dovrebbe essere insegnamento per tutti perché ricordiamoce se ne è sempre dietro dietro la notizia vi è l'uomo dietro l'uomo vi è una famiglia dietro la famiglia vi è la società vi è siamo noi stessi il giornalismo è stata la mia vita dedicandomi la mia adolescenza e la mia gioventù regandomi alla gazzetta anche per precedente e una volta addirittura con le famiglie e la notte del 12 al 13 maggio nel 140 quando mi trovavo solo in redazione squillò il telefono per annunciarmi la morte di mio padre Pasqualino Morgante si offri subito per accompagnarmi al civico ospedale Piemonte un attimo ci portavano degli occhi avrei dovuto consegnare ai rodivisti il materiale da comporre ed il giornale se non lo avesse fatto non sarebbe stato pronto nei tempi restabiliti assolti gli avendimenti dovuti lacrimante e dolente andai a regare l'estremo saluto a mio padre durante la guerra militare nell'undicesimo reggimento e genio quando potevo di una licenza mi regavo sempre a lavorare alla gazzetta mentre scrivevo un articolo sulla stella di correnza il rettore capo Gaspari Cresti che concluse la sua carriera al Corriere la Sera mi avvertì che in una delle cosiddette vendite non le vendite di oggi quando ogni sera giungevo all'operazione dei giornali italiani dal ministero non poteva popolare era detto che la pubblicazione di servizi e notizie relative a quell'episodio bellico non sarebbe stato gradito dal duce risposi che non avevo alcuna intenzione a fare questo comore al duce e i Muzzolini nel ricordare questo ricevono altre mapelle e l'articolo uscì regolarmente sulla gazzetta senza che nulla capitasse né a me né al direttore Ivano e Fossani che spesso oltre spesso veniva ricevuto da Muzzolini insieme all'arcivescovo del tempo consigliare anche Romaino e che ottenevano i fondi necessari alla riconoscuzione della città di Messina ancora distrutta ancora macerie a secolo del sismo del 1908 e se essere riuscito infine con la collaborazione di Aldo Sgroi allora praticante dell'ocenoso Frangelo Cavola dell'inodipista Vandolfo e del Proto Sanlei a pubblicare l'Ego del Mattino il 15 luglio 1948 l'unico giornale italiano stampato dopo l'attentato a Palmino Tognanti e tante altre battaglie sostenute sempre nell'interesse dei siciliari e del territorio tra i quali quelle contro la macchina di Cefalù che avevano bloccato i lavori della postata Messina Palermo il cui consorzio era nel tempo prestituto dall'avvocato Vincenzo Ardezzone il mio credo è stato un giornalismo autentico senza patrini e senza patroni voce libera espressione soltanto dell'uomo responsabilmente impegnato nell'informazione il giornalismo ho insegnato ai giovani va vissuto con passione e con gioioso sacrificio per poter vivere eventi veramente possibili a tanti altri così come li ho vissuti io incontrandemi con passione tra illustri ed autorevoli dai Mucciolini a Sandro Martini a Panfari a Piccoli a Spogodini a Cogliatti alla Principessa Margaret alla all'imperatrice Paranilva all'artista a Ritterberg a capi di Stato e ministri dalla Cida di Saere dalla Polonia alla Russia dalla Gran Metà e dalla Turchia e tra le mille curiose situazioni quella di essermi trovato per mezz'ora al timone della montaere a Milano americana la forestale dal comandante affidatomi perché convinto che io fossi capace di navigare nei mari tempestose della vita quotidiana senza paure senza sentenamenti ma con la sua fede in Dio e l'amore per il prossimo mio ringrazio il Signore che mi ha consenso lunga vita e vi grazie a voi tutti amici e non amici chiedendo perdono senza volta sono lungo meno ai miei doveri lieto di avere dimenticato i torti e i tradimenti che la vita potesiana riserva a tutti noi e chiedo scusa a quei giovani pochi per la verità che non sopportano la mia attività di questi giorni ancora e le quali vogliono tanto bene come sempre porto bene ai giovani me vorrei di essere stato porto bene da autentici ma essi diciamo vivo si da quando a 12 anni con i contavoncini corti come ebbe di intitolare canzetta istituzionale ma impegnando le somme che altri vestivano alla mia età a vacanze estive o a strutture di talpoli o all'acquisto della seconda casa di mare perché prima il giornale è passione è impegno civico mirato da leggendo un'informazione corretta e lontana da codardi canessi ed è un onore concludere questa mia avventura senza essere stato mai costretto a precisazioni rettifiche smettite e senza essere stato mai condannato per i reali di informazione attraverso la stampa o di propagolazione di notizie false tendenziose malgrado alcuni fondetti tentativi di intimidirci e di imbattagliarci tra i giornalisti ai miei tempi vengono anche se appartenenti a destate concorrenti rapporti di paterna cordialità ed eravamo tutti partecipi vicendevolmente delle gioie e dei dolori dei colleghi la mia solidarietà nelle funzioni di segretario provinciale di consigliere regionale della selezione della stampa è stata espressa anche nei confronti di giornalisti da me disegnati a dirigere i due quotidiani cittadini rinunciando alle altrettante prospettive economiche e professionali e sociali offerte di se avessi accettato di sostituirli nell'incarico di direttore e non rimpianti ho la gioia di aver assicurato lavoro a due colleghi e serenità alle loro famiglie questo è il giornalismo di ieri e io vorrei forse il giornalismo di sempre perché il giornalismo non può tradire le aspettative dei lettori che ancora oggi purtroppo meno di ieri credono a giornale come al vangelo dell'Occidente ringrazio voi tutti intervenuti autorità ed amici non faccio nome nessuno avrei dovuto cominciare da presenza delle giornaliste da Cavardo da Morgan da Rilletta da non faccio per evitare spiacevoli omissioni a tutti grazie grazie ai giornalisti tutti ieri e oggi che del bene che è male nell'esaltare e nell'abbsare mi sono state sempre vicini grazie ed è già sera ma risplende la luce dei vostri sentimenti dei vostri vuori della vostra amicizia grazie grazie grazie